Se quando conosci qualcuno per la prima volta, la prima cosa che chiedi è la solata di nascita per scoprire di che segno è e magari anche l'ora esatta in cui è nato per calcolare l'ascendente, questo video è assolutamente per te. Se invece l'oroscopo per te non è un'ossessione, fermati comunque un attimo perché potresti scoprire qualcosa di interessante. Senza bisogno di leggerti la mano, i tarocchi o la sfera di cristallo, oggi ti racconteremo quali sono le partecipazioni di nozze più adatte al tuo segno zodiacale. Una riete è per definizione un fantastico anfitrione, molto attento ai suoi ospiti. I tuoi invitati quindi non vedranno l'ora di sapere come sarà il tuo matrimonio e le tue partecipazioni devono essere all'altezza, quindi con uno stile semplice ma che trasmetta ai tuoi invitati la tua passione. Il colore che non può mancare? Il rosso! Prima che mi dimentichi, ricordati di iscriverti al nostro canale se ancora non l'hai fatto e che cosa aspetti? L'allineamento di tutti i pianeti? Forza! Clicca sulla campana e non perderti i migliori video sulle tendenze e consigli sui matrimoni. Le persone del toro sono amanti dell'ordine e del controllo, sono persone tranquille e concrete, qualità che ovviamente possono essere trasmesse anche attraverso un invito di matrimonio. Informazioni chiare con uno stile classico ed elegante, senza colpi di scena. Irrequieti e dall'umore mutevole opteranno per grafiche personalizzate, asimmetriche e colori accesi come il giallo, il verde o l'arancione. Le partecipazioni di uno sposo o una sposa dei gemelli sono spesso sorprendenti e assolutamente originali. Le coppie del cancro vivono su una continua altalena emozionale ed è per questo che probabilmente punteranno su uno stile vintage che non passa mai di moda per evitare ripensamenti. Qual è la scelta ideale? Una grafica classica da arricchire con una foto di coppia per ottenere un po' quel tocco di sentimentalismo che li contraddistingue. Gli aggettivi che descrivono meglio i nati sotto il segno del leone sono eleganti e sofisticati, ma un leone è anche molto altro. Orgoglioso e dotato di una grande autostima, il leone non perderà occasione per dare mostra di sé nelle partecipazioni di nozze, scegliendo quindi tonalità preziose come l'oro e l'argento. Esigenti per natura, le spose e gli sposi della Vergine studiano le proprie partecipazioni di nozze nei minimi dettagli, grafiche geometriche con dettagli discreti, illustrazioni minimaliste e di buon gusto, e tutte le informazioni essenziali da comunicare agli invitati al matrimonio. Ti piacciono le partecipazioni proposte negli esempi? Se ti stavi chiedendo proprio dove puoi trovarle, ti ricordiamo che su matrimonio.com questi e altri modelli sono disponibili nella sezione partecipazioni. Sono tutti bellissimi e personalizzabili e puoi anche ordinare dei campioni da ricevere a casa. Ma adesso continuiamo con gli altri segni. Le persone della bilancia sono socievoli e allegre, sono amanti dell'armonia e della bellezza, caratteristiche che propongono anche negli inviti del loro matrimonio, con delicate decorazioni floreali che trasmettono allegria e serenità. Gli scorpioni sono passionali e, perché negarlo, anche sexy. Amano essere al centro dell'attenzione e ti sorprenderanno con partecipazioni particolari, che non ti lasceranno indifferente, con contrasti di colore o caratteri tipografici originali, o, perché no, direttamente con un formato poco convenzionale. La sobrietà e la discrezione definiscono gli sposi e le spose del sagittario. Amano la semplicità ed evitano di sentirsi al centro dell'attenzione. Opteranno quindi per partecipazioni romantiche, ma senza eccessi. Più che cuori rossi e scritte con caratteri stravaganti, potete aspettarvi da loro fiori in toni passello o un tema autunnale. Sanno ciò che vogliono, questo è poco ma sicuro. Se c'è una cosa che definisce i nati sotto il segno del capricorno è che hanno le idee ben chiare. Per questo sceglieranno partecipazioni minimaliste, mettendo in risalto ciò che davvero importa. Quando ricevi un invito da un capricorno sai già cosa aspettarsi del suo matrimonio. Una qualità che definisce le persone dell'acquario è l'originalità. Anche per le partecipazioni cercheranno una grafica originale, innovativa e rifiuteranno tutto ciò che hanno già visto al matrimonio di altre coppie. Anche il loro matrimonio vi saprà stupire con grande creatività. Inguaribili, romantici, sensibili, attaccati ai ricordi più emozionanti. Gli sposi dei pesci restano fedeli a se stessi, proponendo delle partecipazioni dallo stile discreto ma personale. Non mancherà una fotografia della coppia ritratta in un momento felice. Un invito di cui fare tesoro per la carica emotiva che trasmette. Eccoci arrivati alla fine. Cosa ne pensi delle partecipazioni che abbiamo proposto? Nei commenti puoi scrivere quale modello ti è piaciuto di più e se rispecchia le qualità del tuo segno zodiacale. Ricorda che nella sezione partecipazioni di matrimonio.com troverai tantissimi altri modelli e formati di partecipazioni, così come altri elementi della stationery per le tue nozze. E se tu o la tua dolce metà non riuscite a mettervi d'accordo perché siete di due segni completamente diversi, beh, lasciatevi guidare dal buon gusto che siamo certi non manca nessuno dei due. Alla prossima!